Un'estate di musica, un'estate d'avventura, un'estate di simpatia, un'estate di divertimento, un'estate d'amicizia, un'estate d'amore. E Canale 5, ancora una volta e ancora più di sempre, è stato il grande innamorato, il grande amico di tutti voi. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che avete seguito con sempre maggiore entusiasmo il programma che Canale 5 vi ha regalato. Grazie a tutti voi l'estate appena trascorsa, ha visto il nuovo clamoroso successo di Canale 5, un successo assoluto, un'estate di successo. Ed ora, per il prossimo autunno, per tutti voi, per rinnovare questo fantastico legame di amicizia, Canale 5 ha preparato una nuova stagione di grande televisione. Una stagione che vedrà il trionfo dell'emozione, del divertimento, della simpatia, dell'avventura e dell'amore. Il regalo della più clamorosa programmazione di film è il primo segno che Canale 5 vi vuole dedicare. I più acclamati protagonisti del cinema di casa nostra e interpretazioni più divertenti, le battute e avventure più irresistibili vi aspetteranno ogni lunedì. Mai prima d'ora i clamorosi successi del cinema italiano erano arrivati così presto in televisione. Lunedì i film Lui Arbari di Canale 5, eccezionali campioni del buon amore e della risata, i meravigliosi campioni d'incasso del nostro cinema, ogni lunedì. Infredibilmente a casa vostra, su Canale 5. Cuori nella tormenta, acqua e sapone, a tu per tu, il ragazzo di campagna, tutti dentro. Bertoldo, D'Artoghino e Cacacenno, così parlò bella vista i due carabinieri. Non ci resta che piangere io, Chiara e l'oscuro. Il mercoledì i filmissimi. All'inseguimento dell'avventura e dell'azione, i grandi capolavori della cinematografia internazionale sono i film che voi volete. È il cinema più spettacolare ma anche più raffinato. I filmissimi di Canale 5, appena usciti dai cinema, entrano direttamente nelle vostre case. Gli interpreti, gli registi, le opere più premiate, le grandi emozioni, gli eterni sentimenti dei capolavori dello spettacolo cinematografico vi aspettano per una nuova sfolgorante stagione sul grande schermo di Canale 5. Le stagioni del cuore. Il migliore, innamorarsi. Beverly Hills Cop, la signora in rosso, all'inseguimento della pietra verde. Superman 3. E ancora, dal produttore di Radici e Uccelli di Robo, il clamoroso evento televisivo dell'autunno, Nord e Sud, il Colossal dell'Otto. Rivivrete le emozioni di via col vento. Sceglierete chi amare e chi odiare. Amerete e odiorete voi stessi gli indimenticabili personaggi del Colossal più ricco della storia della televisione, 70 milioni di dollari, un cast formidabile, Robert Mitchell, David Cardi, Gene Kelly, Morgan Farciai, Gene Simmons, Elisabeth Taylor, Nord e Sud, il nuovo fantastico regalo d'autunno di Canale 5. Una nuova stagione per due, una stagione di grandi regali per innamorarsi ancora e ancora di più, una stagione da vivere insieme sotto il segno amico di Canale 5.